Oggi in voltini di zucchine grigliate e salmone con un formaggio cremoso aromatizzato con erba cipollina e scorza di lime o limone se preferite. La ricetta è veramente semplice, come sempre la trovate sul mio blog. Le zucchine devono soltanto essere grigliate e tagliate abbastanza sottili da poter essere arrotolate senza spezzarsi. Poi potete tranquillamente conservarle in frigorifero e prepararle anche con un giorno di anticipo. Sono un aperitivo o un antipasto perfetto per l'estate. Vi aspetto sul blog.